Siamo in via Tevere a Ribera, alle nostre spalle il complesso di strutture che dovranno essere abbattute, che sono inagibili ormai da molti anni, abbandonate però sono abitate abusivamente e in questa zona c'è una centrale di spaccio di droga, almeno questo hanno verificato indagini che sono state portate avanti qualche anno fa. Padre Nuara ha chiesto recentemente che si possa completare questo muro eliminando il cancello d'ingresso che vedete alle mie spalle per rendere più difficile il passaggio, l'ingresso in questa zona. Padre Nuara, è una richiesta che lei ribadisce, è forte del fatto che c'è una preoccupazione per quanto riguarda lo spaccio dei stupefacenti a Ribera? Sicuramente Ribera, da quello che ci risulta, è forse la prima nel consumo di droga per tutta la provincia. È un dramma che tocca quasi tutte le famiglie di Ribera e naturalmente non possiamo stare tranquilli per questo, perché noi dobbiamo volere per i nostri figli una vita serena e bella, non una vita problematica, vita problematica e di sofferenza che investe anche le famiglie, perché non è solo colui che si droga che ha il problema, poi coinvolge in questo problema tutta la famiglia. Negli anni scorsi ci sono state anche delle morti per droga a Ribera, voi vi siete fatti promotore di un'iniziativa, avete portato qui degli esperti che si sono confrontati con tanti giovani di Ribera, questo ha portato qualche risultato? Sì, qualche risultato l'ha portato, però non tali da dire abbiamo vinto, perché il problema secondo me è questo, è un tabù per una famiglia avere in casa un figlio drogato. Sarebbe invece diverso, se le famiglie fossero i primi, le prime a uscire fuori allo scoperto, perché solo quando si esce allo scoperto si può programmare una salvezza del figlio. Io leggo nelle cronache che al nord alcune famiglie, alcune mamme soprattutto, hanno denunciato i propri figli, perché era l'unico modo per poterli salvare. Io ho un'esperienza di tanti anni e ho avvicinato tante famiglie che avevano di questi problemi e ultimamente ho seguito un caso e la famiglia è riuscita a portare il proprio figlio in comunità, ma la gioia della famiglia, la serenità che ha ritrovato. Anche il figlio stesso che sta seguendo questo percorso si accorge di essere un altro.